All'origine mitologica del lago di Gard, attraverso i fondali dei mari più caldi e lontani, interrompiamo le trasmissioni per un'edizione straordinaria di TGO. Uno strano fenomeno si è manifestato nei cieli sopra Gardaland, il famoso parco divertimenti sul lago di Garda. Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma abbiamo ricevuto un contributo video amatoriale. Vediamo il servizio. Come avete visto è qualcosa di ancora poco chiaro. Sul posto sono accorse le autorità e le forze dell'ordine. Aggiornamenti nelle prossime ore.